La metà dell'undicesima di andata di eccellenza si disputa domani pomeriggio. La parte nobile della classifica consumerà proprio domani le rispettive gare in programma, a iniziare dalla capolista Campobasso. A sesto campano sarà pancia piena per i ragazzi di Farina dopo dieci vittorie consecutive e un distacco sulla seconda decisamente rassicurante. Staremo a vedere se i sestesi avranno l'onore di bloccare un Campobasso schiacciasassi che non deve fronteggiare particolari defezioni. Rimane in forte dubbio Corradino per l'infortunio ormai datato accaduto contro il Fornelli. Ad ogni modo Pignataro sta prestando ampie garanzie nel reparto mediano. Convocato un arbitro di fuori regione per sesto campano Campobasso, dirigerà infatti il signor Cimino di Sala Consilina. I pugliesi della gioventù da una hanno otto punti in meno del Campobasso ma hanno un ritmo interno uguale a quello dei rosso-blu, cinque vittorie su altrettanti incontri. In questo senso risulta proibitivo il compito della Cliternina di uscire indenne dal terreno di gioco della provincia di Foggia. Gara affidata alla direzione di De Santis di Campobasso. Il Fornelli di De Bellis ha tratto vigore dall'ultima vittoria interna contro la Santeliana che ha permesso a Cifani e soci anche di scalare un posto in classifica. Almeno sulla carta non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile. l'Alife sul campo dalle dimensioni ridotte della provincia di Caserta. Carpano di Termoli è l'arbitro designato per Alife Fornelli. A completare il quadro degli anticipi di eccellenza, la gara tra Rocca Ravindola e Montaquila che sarà diretta dal signor Esposito di Aprilia. In promozione di anticipi ne sono previsti soltanto due e hanno anche significati particolari perché, come in eccellenza, è coinvolta la prima della classe Treppini, Sporting Matese. I campani si scontreranno in casa con il Rocca Sicura. Domenica invece si concentreranno sulle partite delle dirette concorrenti Olimpia-Riccia-Cerce Maggiore e Vinchiaturo-Casalnuovo. Arbitro donna per Treppini-Rocca Sicura. Si tratta di Serena De Michele di Termoli. L'altro anticipo vede opposte le acle al campo di Pietra. In palio punti salvezza pesanti. Vietato perdere sia per Rienzo che per Civico. Con una classifica così corta, ogni minimo scivolone può costare carissimo. direzione di gara affidata a Mottillo di Campobasso.